Ne parlavamo anche prima di entrare in trasmissione, in queste situazioni ha definito il direttore bravi ragazzi questi procuratori, tutto l'entourage di Vlaovic. L'atteggiamento un po' che fa pensare, perché giustamente il direttore dice manda messaggi d'amore a Firenze, devo stare qua, la mia città si è crociato qui, però non firma, non firma perché sicuramente dietro c'è qualcuno che decide di non firmare, a questo punto potrebbero essere i procuratori o che non sono contenti di questa parcella di 2 milioni e mezzo neanche, che credo sia, e vogliono probabilmente, io non lo so come funziona, probabilmente vogliono arrivare a incrementare, bravo il gioco a rialzo, una provocazione. Ah mi piace se provochi te. Provo così perché se io voglio rimanere in un posto posso anche cambiare procuratore o non rinnovare la... Quindi è chiaro cosa stai dicendo, non sono solo i procuratori, se voglio posso fare anche questo, se voglio posso fare anche questo, se no e comunque posso decidere io di firmare il contratto, non ho bisogno che mi metta una firma qualcuno, quindi diciamo, tra virgolette, chi alla fine poi deve prendere una decisione, deve assumersi di responsabilità, alla fine è il giocatore, perché non serve la firma del procuratore perché tu possa prolungare il contratto, sembra la firma del giocatore. È stato chiaro Chris nella sua analisi, no?